Tra le tante bandiere sognate dai comuni d'Italia c'è anche quella arancione ed in Calabria se ne è discusso oggi a Catanzaro. Il vessillo, diversamente da altri, è dedicato a tutte le realtà amministrative dell'entroterra, al di sotto dei 15.000 abitanti. Anche in questo caso l'obiettivo da centrare è lo sviluppo e la valorizzazione nell'ottica condivisa dell'offerta turistica locale. Solo così si potrà conquistare l'ambito marchio di qualità del Touring Club italiano, L'iniziativa nasce infatti nel lontano 1998, grazie alla collaborazione tra Touring Club e Assessorato al Turismo della Regione Liguria. Abbiamo un modello d'analisi molto ampio, fatto di circa 250 parametri, si va dalla segnaletica ai siti internet, alla disponibilità di informazioni sul campo, alla qualità e la varietà del sistema ricettivo, del sistema di ospitalità e la nostra squadra fa delle visite specifiche in tutti i comuni che vengono preselezionati e si vanno ad assaggiare veramente come funzionano questi paesi. E poi tutti i comuni riceveranno un piano, un modello di lavoro, un piano di miglioramento che è il focus proprio del nostro lavoro. Qual è la cosa positiva, oltre a chi potrà conseguire la bandiera arancione? È che verrà consegnata a tutti i comuni che non consegnano la bandiera arancione un piano di miglioramento dell'offerta turista, quindi è una specie di dono che la Regione Calabria e il Tuni fanno ai comuni per poter migliorare la loro offerta. Oggi a Catanzaro, come detto, si è tenuta la presentazione di avvio della prima edizione di bandiere arancioni in Calabria. I comuni che si candideranno saranno sottoposti all'analisi di sviluppo territoriale, ricercando e osservando i punti di forza e debolezza del sistema turistico. Il marchio sarà assegnato agli enti che risulteranno in linea con tali standard. A mostrare interesse per l'evento, dal Tirreno-Cosentino, anche il comune di Aieta. Attualmente i borghi calabresi ad essere certificati sono quattro, Bova e Gerace nel Regino, Civita e Morano Calabro, in provincia di Cosenza. I toglieri verranno consegnati ai sindaci, sono stati invitati tutti i sindaci, ai partecipanti e anche ai nonni, saranno inviate tutta questa modulistica dove devono rispondere e poi adeguarsi a queste norme. Poi saranno fatte sopralluoghi da parte dei tecnici del touring in queste località per vedere se hanno adempiute e se hanno raggiunto il punteggio necessario per poter accedere alla bandiera arancione. Questo è il progetto, un progetto che tende non solo alla valorizzazione dell'area interna e dei borghi, ma soprattutto a destagionalizzare il prodotto turistico regionale con una nuova offerta di qualità che non è quella tradizionale stagionalizzata che è quella balneare, ma va oltre quello che sono i turismi tradizionali, nuovi turismi per incrementare i flussi in bassa stagione.